Ciao amici, benvenuti nel mio canale. Prima di passare al nostro video, se non sei ancora iscritto al mio canale, non dimenticare di iscriverti al mio canale, mettere mi piace e condividere il mio video. Ora passiamo al nostro video. Grazie a tutti per il vostro supporto. Perché? Mentre nel mondo delle serie televisive sono all'ordine del giorno frequenti cambi di attori e nuovi suggerimenti per gli attori. L'abbandono di Melissa Donjelin dalla serie Dirty Basket e la proposta di Alil di Sila Turkoglu per il ruolo principale hanno attirato grande attenzione. Un vasto pubblico nell'ultimo periodo di Dream Television ed è diventata una delle produzioni più apprezzate. E Melissa Donjel erano anche nel cast della serie. Melissa Donjel interpreta un personaggio amato dal pubblico. Tuttavia, la decisione di lasciare Melissa Donjel nella nuova stagione della serie ha sorpreso il pubblico. Dopo la separazione, i produttori e i registi della serie si sono trovati di fronte alla necessità di scegliere un nuovo attore per il ruolo principale. A questo punto l'attore protagonista della serie, Alil Ibrahim Cheyan, ha suggerito a Sila Turkoglu, che ha attirato grande attenzione. Sila Turkoglu è conosciuta come una delle giovani attrici emergenti della televisione turca e attira l'attenzione con le sue interpretazioni di successo nella sua carriera. Il suggerimento di Alil Ibrahim Cheyan di Sila Turkoglu per il ruolo principale ha suscitato grande curiosità nel pubblico e stanno aspettando con impazienza di vedere come verrà accolto questo suggerimento. Cari follower, grazie a tutti per aver guardato il mio video. Spero di vedervi in nuovi video. Arrivederci!